La guida dell'Espresso si rinnova, non più generalista ma selettiva, essenziale, agile, pensata e realizzata per l'appassionato curioso e il consumatore avveduto più che per gli esperti e gli addetti ai lavori. La nuova guida dei vini d'Italia dell'Espresso è stata presentata alla stazione Leopolda di Firenze in collaborazione con Pitti Immagine. Curata da Andrea Grignaffini e Antonio Paolini, la nuova guida ha come focus tre distinte classifiche, ordinate per valore ma senza punteggio. I 100 vini da bere subito, vini importanti ed eccellenti che si possono stappare con piacere già da subito. C'è poi quella dei 100 vini da conservare ovvero quelli destinati ad affinarsi e migliorare nel tempo e ancora i 100 vini da comprare per l'ottimo rapporto tra qualità intrinseca e il prezzo sul mercato che mette al primo posto il Brunello di Montalcino 2011 di Ridolfi. Il nucleo centrale della guida è poi dedicato ai migliori vini delle denominazioni più importanti, oltre 120, ordinate per regione, ognuna introdotta da una cartina che evidenzia le principali denominazioni di origine, spazio poi alla selezione dedicata alle aziende presentate in ordine alfabetico. Completano alla guida le pagine dedicate alla conservazione, al servizio, agli abbinamenti con un glossario essenziale per chi al vino si avvicina con curiosità e desidera saperne di più. Insomma, bisogna bere con consapevolezza e con attenzione.